di carriera che gli consentiranno di svolgere il delicato compito con autorevolezza e tanta disponibilità. E adesso la politica, un tavolo programmatico con tutti i responsabili provinciali di tutte le forze del centro-destra per ricostruire un'alleanza in provincia di Salerno. Questo è l'obiettivo del coordinatore di Forza Italia Mara Carfagna che ha incaricato il senatore Fasano ad incontrare tutti i responsabili dei partiti di centro-destra. Ritrovare le ragioni per stare insieme e ridare al centro-destra con la forza dell'unità il ruolo di guida politica di Salerno e provincia. Con questo obiettivo il coordinatore provinciale di Forza Italia Mara Carfagna, sentiti i vice coordinatori e i componenti del direttivo provinciale, ha delegato il senatore Enzo Fasano a farsi carico per conto di Forza Italia di incontrare i responsabili provinciali di tutte le forze del centro-destra, in modo da dar seguito all'invito di promuovere un tavolo programmatico per un percorso comune che dia nuova linfa all'azione politica per un vero rilancio di Salerno e provincia. A tal proposito si è espresso piacevolmente anche il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. Ritengo che l'esperienza politica e la capacità di mediazione del senatore Fasano sapranno essere il valore aggiunto per la costituzione del tavolo programmatico del centro-destra, addetto Aliberti. All'onorevole Mara Carfagna va tutto il mio appoggio per aver individuato nel senatore Fasano la persona che si occuperà di riunire il centro-destra locale in provincia di Salerno. Accogliamo la sua nomina e l'idea stessa del tavolo programmatico con spirito di unità, confronto e dialogo. È il momento di guardare al futuro e di mettere da parte i vecchi rancori, ha concluso il sindaco di Scafati. Questo è il